Buongiorno, sono il dottor Fotti da Genova. Vi presento questo corso che è stato organizzato da Dental Campus, con il quale collaboro da alcuni anni. È un corso che io raccomando in quanto vi presento una tecnica molto semplice, predecibile, alla portata di tutti, sulla GBR orizzontale. Una tecnica che io ho ideato nel 2016 e ho pubblicato nel 2020. Si contraddistingue per la sua semplicità, predecibilità e bassa morbilità rispetto alle tecniche attuali. Oggi il corso è molto ben frequentato, numerosi colleghi interessati. Stiamo progettando per il futuro ulteriori corsi nel prossimo semestre e anche nel 2025. Non mancate perché non ve ne impedirete.